I Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custode cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP Michele Consiglio su richiesta del Procuratore Aggiunto Fabio Scavone e del Sostituto Vincenzo Nitti. Si tratta di una risultanza delle indagini condotte dall'operativa della Compagnia di Augusta dal giugno 2014 al settembre 2016 su un traffico di stupefacenti con caratteristiche simili a una vera e propria attività imprenditoriale. La zona che è stata colpita sono quelle di Lentini e di Francofonti. L'operazione è scattata alle prime luci dell'alba, visto impiegati 50 carabinieri di Augusta del Comando Provinciale supportati dal dodicesimo elicottero del nucleo elicotteri di Catania, ma anche da unità cinofile della Guardia di Finanza. L'indagine denominata Mickey Mouse, per il nome convenzionale che è uno degli arrestati, utilizzava per ridurre le mire degli investigatori, nasce dall'arresto operato in flagranza e reato a carico di Giuseppe Gaeta, che è un agente assicurativo colto dagli investigatori nel possesso di cocaina e della rilevante somma di 1700 euro ritenuto provento dello spaccio. Le investigazioni sono estrinsecate nell'analisi dei tabulati relativi al traffico telefonico degli indagati, nel captare le intercettazioni telefoniche ambientali e soprattutto nella ricerca dei relativi riscontri alle conversazioni. In più si parlava di droga, riferendosi a prosciutto e anche vacanze. Nello specifico, quindi dall'arresto del giugno 2014, dal monitoraggio del Lentinese Gaeta, i carabinieri del nucleo operativo hanno accertato che Gaeta appunto non agiva da solo insieme al concittadino Giuseppe Circo, di professore assicuratore. La frequentazione, con quest'ultima apparsa sospetta fin da subito a GK2, si davano frequenti appuntamenti per parlare di contratti assicurativi, spesso nei giorni festivi e comunque in orario di chiusura dell'agenzia. Oltre a aver sorpreso l'uscita della sede assicurativa Gaeta in possesso di droga e soldi, sono stati rinvenuti nell'agenzia bilancini di precisione e anche sostanza da taglio, bustine varie, oltre a superfacente con cocaina e marijuana. Il duo si riforniva di cocaina acquistandola dal franco fontese Nicola De Luca. Le investigazioni su quest'ultimo indagato hanno permesso di appurare che cedeva la sostanza agendo non in proprio ma per conto di un'altra persona che tuttora risulta indagato a piede libero nel corso dell'attività, tramite il monitoraggio dei persone che sono state coinvolte nell'operazione, sono emersi altri acquirenti fra cui il franco fontese Sebastiano Castiglia che quindi ha attirato l'attenzione degli investigatori consentendo un ulteriore collegamento con Cirino Giardina, un altro presunto spacciatore franco fontese che non si limitava alla cessione degli stupefacenti ma si dedicava personalmente alla coltivazione di una piantagione di canapa indiana con 2300 piante.